Trailer, capitolo 4, è il trailer del capitolo 4, è il new beginning, ho fatto tutto quello che ho potuto Questa è la tua battaglia adesso, ma questa è la scena che abbiamo avuto prima Qua c'è MrBeast, ce lo fanno rivedere, c'era anche altra roba, c'è un'ascia di chi è Sto cercando di cogliere qualcosa, un mega castello Ult Faranno la skin di MrBeast comunque, per forza Ok, comunque qua, in realtà, riguardando bene questo video, si può vedere un sacco di roba della roba Perché c'erano un sacco di pezzi Capitolo 4, eh scusami, no davvero? Grande delusione Nel senso è lo stesso video che abbiamo visto prima Ci fai vedere qualcos'altro adesso? Nope Mannaggia Ci ha fatto rivedere la stessa cosa Niente Dal vivo Ancora il live questo Vabbè qua non possiamo loggare, ma tanto da qua vediamo cosa sta succedendo Cambia qualcosa, bisognerà vedere tra qualche ora cos'è cambiato Ogni tanto passerà qualche spoiler davanti come prima Collab di The Witcher Sì, Doom, non l'ho visto Eh vabbè, c'era Hulk, c'era MrBeast The Witcher Doom? Doom non l'ho visto Forse l'ho visto ma non l'ho riconosciuto Hanno vinto i terrabbiattisti, acque Eh sì, mi sa che avevano ragione loro Almeno per Forney Oh raga Che bravi che siete tra l'altro 13 spettatori, 13 like Ah, Doom era nella copertina So c'è che c'è città raga Riguardiamolo Ah, o il socio di The Witcher l'ho visto Questo è Doom Questa è la sua spada Questo chi è? Questo è The Witcher Questo non ho idea di chi sia Questo mi ricorda qualcosa ma non so cos'è L'isola sembra carina Interessante da esplorare E rivediamo un pochino il trailer Per vedere se cogliamo qualche pezzo in più C'è praticamente questa ha raccolto pezzi da Da vari mondi E li ha uniti Allora Questo è The Witcher E c'è il coso di Slurk la destra Qua c'è un'ascia che se qualcuno sa cos'è Scrivetemelo S'ha hunt to our dog water Cos'è successo? Chi è sta gente raga? Qua c'è il dinosauro Una chitarra E c'era anche qualcosa Qua Ah un anetto Questa è un'altra cosa che non riconosco Questo anche Avrà un significato C'era la La trivella Questo rega È il pezzo Della mappa Del capitolo 1 Secondo me Dove c'erano gli aerei Dove decollavano gli aerei No Forse dico una cavolata Polar Peak No Non credo Questo Non ho idea Questo sembra bellissimo Ma non l'ho visto in nessun'altra mappa Mega castello Bello Questo punto di interesse deve essere Strafigo Il faro Chi c'è qua? Non si capisce chi è C'è qualcuno qua Che ce lo vogliono far vedere Ma non si capisce chi è Hulk con dietro Nanetto Chi sono quei due che corrono Non si vede bene Questo si vede bene come Guarda come è fatta bene Cioè non sembra una schiena Lunga Non è il castello dove sotto c'era il robot Non il robot ma il mostro Quello di Polar Peak Non lo so Può essere però Era rotto a metà su Polar Peak Che era tutto innevato Qua viene tutto unito Incastrato perfettamente E riforgiato Quindi si la mappa Non l'abbiamo scelta noi Rega L'han scelta loro però Ci hanno fatto credere Che l'abbiamo costruita Noi Aspettate rega Che devo bannare Sta gente in chat Andassero poi da qualcuno Che li capisce Segnala E segnala E segnala Va bene C'è uno che sembra Pulsar tutto al centro Infatti rega Lo spoiler Che non vi ho detto È che io con i miei Sei spettatori Sono stato contattato Da Epic Games Non possiamo fare Non possiamo fare a meno di te Facciamo una skin tua E quindi Ci sarà La skin di Pulsar Mamma mia Rega Vabbè Per me è non Così deludente In realtà E sono molto fiducioso A me Se devo essere onesto Più che Gli eventi Mi interessa Come sarà il nuovo capitolo E per quello Ho fiducia Tanta fiducia Si è voluto Il bat Il bat Il bat Il bas Mai visto Un evento Tanto brutto E paranoico Un po' lungo Cioè poi Boh Perché devo portare in giro Le palle di neve Non lo so O gettare i polli Nel punto Zero Strano Molto strano Io rega Mi auguro Tanto No Scusate Mi partono Da soli Video Mannaggia E E E